Questa ottava del convegno, un miglio per discreti tre anni, non partente Bernardina, aveva il sette, ne rimangono in undici. Blue Sky Pack, ancora una volta vecchione Roberto, lui il più gettonato. Vittoria stupenda di Cockstyle nella seconda batteria, girando sempre a largo, veramente è stato devastante. Peccato per l'altro napoletano Vivid, che ha sbagliato in partenza e quindi niente finale. Quindi attesa, attesissime alla finale con questo Cockstyle che porta i colori della Santese. Galoppa il nove, problemi del Verben Gurion numero dieci che parte piano, via la macchina e si lotta per la partenza. Emerge Brunello a largo, ma di dentro gli rientra Becky Black Dante. I due in lotta all'attacco dei primi duecento, duecento che se ne vanno in quattordici e due. Deve desistere l'avversario, non si può accodare, ma ora probabilmente riesce il buon Caterpillar con il suo Brunello. Viene via subito Brennero Lewis con Gallo e che punta in avanti, ma viene controllato da Balticus con Vincenzo Luongo. Risale intanto il favorito, Blue Sky Pax. Lontani il 6, il 10 e il 9. Punta in avanti Roberto Vecchione, non ammette interferenze, 46 e mezzo. E Blue Sky Pax va sui primi. Intanto allunga bene e mantiene il comando Becky Black Dante. Si completa il mezzo miglio in 1, 2 e mezzo, 16 di frazione. Risale anche Bonaparte e Luis, l'errore di Brennero. E Bonaparte c'è l'errore anche di Balticus. Un po' Valzer e Sagre di rotture. Sono puledracci ancora, 17,4 il chilometro. E tiene in pugno del situation ancora il giovane Maione, il suo Dante. All'argo il favorito, Blue Sky. Sbanda un po' Bonaparte, poi cerca la risalita. Allunga e prende vantaggio il Dante. Se ne va, ne prende due, tre, quattro determinanti per il successo. Retta d'arrivo con Becky Black Dante in chiaro vantaggio. Questo ennesimo ideale Luis, pennellato da Maione, che va al doppio. ritorna Bonaparte dopo qualche difesa caratteriale e va all'attacco di Blue Sky Packs. E mentre Becky vince facile, per il secondo è ancora vecchione, che difende la migliore moneta nei confronti di un Bonaparte ancora da costruire per difese caratteriali. Due minuti e un po' di spiccioli. Uno, 15,4 cost to cost per Crescenzo Maione. doppio nel pomeriggio, veramente un giovane non valido, ma validissimo. Linea allo studio. Grazie a tutti.